con Maria e con la sua scuola, il linguaggio meraviglioso che possiede quel modo di comunicare attraverso i movimenti del corpo, con lo sguardo, le mani, i fianchi. Provare una lezione di danza del ventre ti permette di avere a che fare con te stesso, sperimentare e soprattutto scoprirti interiormente. Intanto volevo dire che le scuole di Maria, Marano, sono la palestra Chinesia a Vado Ligure, Vitality Gym a Spotorno e Fit Club Solo Donna Savona. Quindi il primo intervento è Baladi, danza dell'anima egiziana. Maria, a te.